Un grosso passo in avanti verso la realizzazione dei due termovalorizzatori che risolveranno definitivamente la nostra problematica dell'emergenza rifiuti nella nostra regione. Produrranno energia determinando un abbassamento del costo delle bollette per le famiglie, non inquireranno ed eviteranno che i siciliani siano costretti a pagare quello che paga la Sicilia ogni anno, 100 milioni di rifiuti all'estero perché non possiamo smaltirli. Tutto questo sicuramente è un nostro impegno che intendiamo mantenere lavorandoci quotidianamente col grassende sforzo senza distrarsi minimamente.